Signori, dopo mesi rieccoci con un nuovo video della serie i vlog di Lord Otaku. Sono andato a controllare e risale all'anniversario di One Piece Treasure Cruise, quindi circa inizio, metà febbraio, veramente troppo tempo. Questi video sono semplicemente un modo per parlare del più e del meno in totale libertà, quindi come state, tutto a posto, la famiglia, casa, scuola, lavoro, tutto ok, tutto a posto. Ovviamente le cose da dire però ci sono, quindi iniziamo dal primo punto ed è un saluto caloroso a tutti i membri del gruppo di Telegram. Non posso salutarvi uno ad uno, quindi il mio è un abbraccio generale e ne approfitto per ricordarvi che in descrizione trovate il link per unirvi. Mi raccomando, fatelo assolutamente. Seconda cosa, un ringraziamento per il supporto che in questi ultimi mesi è aumentato considerevolmente. Non siamo ancora ai livelli che secondo me il canale merita, però diciamo che è un avvio, è un buon periodo. Questa cosa e forse argomento principale di questo video è l'imminente look a Comics and Games, iniziando da un commento generale alla fiera. Quest'anno mi sta soddisfacendo non poco. Tutto ovviamente deve ancora iniziare, quindi quando sarò lì vedrò meglio e quando sarà finito tutto potrò tirare delle somme definitive. Però si vede che hanno sentito le critiche dell'anno scorso, oppure per andare in più nello specifico evidentemente hanno visto il video che ho fatto io l'anno scorso, perché praticamente quest'anno hanno fatto tutto quello che richiedevo in quel video. Per capire nel dettaglio a cosa mi sto riferendo trovate il link a quel video durante i crediti finali. Secondo me il 2018 è stata l'edizione più brutta della fiera. Pochissimi eventi e soprattutto ospiti desiderati dal pubblico, tanto quanto la Appellagra. Ricordiamo il mitico Ghepechenio, il cui contributo è stato nemmeno 30 minuti sul palco, preso il suo bel sacchetto pieno con il simbolo del dollaro stampato sopra e poi basta. Questa anno invece abbiamo tantissimi ospiti, mi vengono in mente, Arachi di Jojo, molto importante, Saprovski di The Witcher e il cast della serie, Patrick Stewart, il nostro capitano Picard, Il ritorno sia di Cristina d'Avena sia, dopo decadi di assenza, di Giorgio Vanni e tantissimi altri. Probabilmente a livello di ospiti è una delle edizioni più ricche. Poi ci sono ospiti meno graditi come Cannarsi, ma lasciamo perdere, ci ho già fatto un video a riguardo che vi invito assolutamente a recuperare perché non ve ne pentirete. Poi tante anteprime, tantissimi film, c'è comunque qualche sbavatura, come ad esempio la rimozione sulle mura di moltissimi stand, la posizione anche di alcuni stand e padiglioni e soprattutto l'assenza di una mostra a Villa Bottini. Insomma c'è tutto quello che in modo ingiustificato non hanno fatto l'anno scorso. E questo adesso ci porta a due sottopunti. Il primo è che il canale tornerà al suo percorso originale. Se per un periodo ci siamo concentrati più su One Piece e Treasure Cruise, soprattutto perché sono video più semplici da fare, dopo Luca vorrei portare molti video vecchio stile. Cercherò di provare più anteprime possibili durante la fiera, torneranno le prime impressioni sui manga. Mi piacerebbe riportare una serie che mi piaceva molto registrare, ovvero i tesori dell'impero, quindi ripartire, come abbiamo fatto l'anno scorso, dagli acquisti del Luca Comics. State tranquilli, non uscirà un video di 40 minuti, ma nel caso sarà diviso in più parti. Insomma la schedule è molto molto ricca e vi invito a seguirmi lo stesso. Lo so che l'80% di voi, anzi forse qualcosa in più, è qui per One Piece e Treasure Cruise e se ne frega allegramente di tutto il resto, però quantomeno se vedete un mio video, cliccateci sopra anche se è un argomento che non vi interessa. Lasciate un mi piace, aspettate 10-20 secondi giusto per dare la visualizzazione e poi potete andarvene. Mi raccomando, fatelo per il vostro lord che muore dentro ogni volta che carica un video non di One Piece e Treasure Cruise e vede che fa tre visualizzazioni messe in croce. Il secondo punto di questo terzo punto è la mia presenza al Luca Comics. Come dissi l'anno scorso, se mi vedete potete fermarmi senza troppi problemi per scambiare un saluto. Ma non di più perché comunque sono lì per lavorare. Con lavorare intendo comprare come se non ci fosse un domani. Quindi se vedete un tizio pieno di sacchetti e pieno di roba tipo i vun comprà sulla spiaggia allora sapete che sono io. Trattate anche dei sali perché il primo a imbarazzarsi sarò sicuramente io e probabilmente sverro anche. Queste più o meno saranno le fasi del tutto. Prima diventerò rosso per poi diventare viola. Sudorazione, proprio come una fontana. Sbiancamento improvviso non riuscire più a spiccicare una parola e poi il crollo definitivo. Perciò unitevi al canale di Telegram per rimanere aggiornati sui miei spostamenti. Ovviamente non saranno aggiornamenti al minuto però diciamo che quando mi ricordo ogni tanto qualcosa vado a scrivere. Quindi mi raccomando unitevi. Sarò presente tutti i giorni di fiera quindi dal mercoledì alla domenica. Sarò più disponibile nella giornata di mercoledì 30 e parteciperò alla proiezione almeno spero di partecipare alla proiezione come dio comanda ovvero originale subita di One Piece Stampid che sarà sabato 2 novembre alle ore 12. Non è un vero e proprio raduno perché sarebbe ridicolo coi numeri che ho anche perché se organizzasse una cosa del genere sarei io, me e Lord Otaku e basta ma dato che One Piece è uno degli argomenti principali del canale sarebbe una cosa carina partecipare. La prima cosa poi vi lascio riguarda One Piece Treasure Cruise. Applausi, applausi, finalmente un argomento che ci piace. Come sapete siamo in un periodo d'oro pieno di eventi e che a brevissimo ci sarà un grande sugo fest. Purtroppo come detto non potrò farlo nell'immediato causa Luca Comics ma lunedì 4 novembre alle ore 14.30 ci sarà una live dove pullerò in tutte e tre le parti quindi ci saranno tanti pull e sarà una live molto molto ricca. Quindi spammate già da adesso ovviamente è obbligatorio partecipare. Questo evento e il sugo fest sono alla pari di un anniversario quindi è gradita la vostra partecipazione in massa. Nel dubbio attivate le notifiche così si spera che YouTube una volta che la live sarà iniziata vi mandi la notifica ma comunque lo ricorderò sempre sul canale di Telegram il giorno stesso della live. Detto questo grazie per essere rimasti fino all'ultimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao